ciao a tutti ragazzi io sono Leonardo di The Saint Games e voi? ciao a tutti ragazzi sono Luca di The Saint Games qui con me oggi ci sono Leo e Andrea per la prima volta in facecam sul nostro canale vi portiamo una speciale 100 iscritti normalissimo semplicissimo di 3 minuti 4 minuti non di più così dove vi spiegheremo un po' le novità perché abbiamo fatto questo speciale e vi passo la parola a costumi allora ragazzi speciale 100 iscritti vi ringraziamo ovviamente tutti gli iscritti e tutti quelli che commentano sotto i video è un traguardo abbastanza importante e speriamo di continuare andando sempre avanti usciranno moltissimi nuovi video aspettatevi un episodio molto bello e niente ragazzi siamo tornati tornati veramente questa volta dopo un mese di inattività ve l'avevo spiegato già nel video due tre video fa se non l'avete visto andate ve la vedere perché più o meno riassumo cosa è successo perché siamo stati in attivi ma l'importante è che adesso siamo tornati facciamo carichi facciamo video e niente ragazzi aspettatevi tanti altri video come ha detto già Luca siamo tornati davvero ci stiamo impegnando può darsi anche che faremo più video alla settimana molto spesso potrà capitare che usciranno dei video appunto come questo dove non giochiamo a niente ma possiamo spiegare delle cose del canale delle novità degli aggiornamenti e niente ragazzi vi ringraziamo ancora per i 100 iscritti qui da Leo Luca Andrea bello a tutti ragazzi sono Luca di San Games e qui con me oggi come al solito mi fanno compagnia Leonardo ragazzi mi avrete visto sicuramente in giro per la strada facciamo in serio lui dai ragazzi questo qui va bene aspetta dai vada dai dai io mucchi that we can we will play in Minecraft because we are nerd and 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 Leonardo I'm doing it e e no 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 Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca Stronzo Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca Delle Saint Games e stiamo provando da un'ora a fare questo video Grazie